La proposta tocca tanti aspetti e per questo possiamo dire che stiamo iniziando a digerirla, avremo bisogno di discuterla bene nelle prossime settimane, ma possiamo già dare alcuni elementi di valutazione generale. Anzitutto va detto che non era assolutamente semplice fornire un quadro normativo su una materia così orizzontale vasta, sapendo che l'intenzione della Commissione non è di normare la tecnologia in sé, o meglio le tecnologie, ma gli usi che se ne fanno. Questa è una distinzione secondo me molto importante da tenere presente, ed era però necessario farlo per superare approcci nazionali che stavano già nascendo, naturalmente con velocità e attenzioni diverse che avrebbero portato però a una frammentazione veramente complicata poi da gestire del mercato interno, con difficoltà per gli operatori ma anche per i consumatori. E per affrontare anche in maniera diretta i rischi, le paure, le opacità dei sistemi, gli aspetti problematici già citati anche negli interventi precedenti e quindi anche affrontare in maniera diretta questi temi. Devo dire che rispetto all'impostazione che sembrava prevalere all'inizio, all'inizio del confronto con la Commissione, fondata su un sistema binario da basso rischio e alto rischio, con solo quest'ultimo da normare con obblighi precisi, siamo passati a un sistema, come la Commissione stessa lo definisce, a piramide, con quattro livelli diversi, dal più basso al più libero in assoluto, agli usi che necessitano trasparenza, come per esempio i chatbot, dove è necessario ad esempio informare l'utente che interagisce con l'intelligenza artificiale, per passare all'applicazione ad alto rischio e infine a quelle espressamente proibite.